Si oppongono al comandamento, non pronunciare in vani il nome del Signore, la bestemmia contro Dio, la Chiesa, i Santi, il sagrilegio con cui si trattano indegnamente persone, luoghi e oggetti sagri, la simonia con cui si scambiano beni spirituali e vantaggi materiali, il giuramento falso che fa di Dio il gigante di una menzogna, il mancato adempimento di un voto con cui si è obbligati davanti a Dio a fare un'opera possibile e migliore del suo contrario. Ogni discorso presuntuoso su Dio. Vi è un episodio raccontato dal grande scrittore Giovanni Papini. Lo scrittore toscano Giovanni Papini racconta una sua avventura. Non fece in tempo a prendere quel qualche soldo perché il suo amico aveva già preso il portafoglio dal quale estrasse un biglietto di grosso taglio. Vedi questi soldi? Sono tuoi, ma ad una condizione. Accetti? Sicuro che accetto, rispose il povero. Ebbene, devi farmi sentire tre bestemmie e questi soldi sono tuoi. Cadde un silenzio pesante e fastidioso. Poi il povero uomo piano piano ritrasse il braccio avido che aveva già alluncato e dopo un inchino col capo voltò le spalle e andò via. Una grande tristezza mi aveva preso, racconta sempre i papini, non perché fossi un credente, offeso nei miei sentimenti religiosi, ma perché era stata offesa quella persona nella sua dignità di uomo. L'offesa a Dio non si compie solamente con la parola offensiva di odio, ma anche con attribuirgli la crudeltà, l'ingiustizia, la tirannia, con scampiare gli attributi di amore con quella di vendetta. Cosa dici delle bestemmie e del parlare volgare del nostro tempo? Inveire verso un altro uomo non è forse una bestemmia. Un modo positivo per nominare Dio è lodare il suo nome. La Bibbia ci dice di lodarlo con preghiere di adorazione e di ringraziamento dentro di noi nel tempio della famiglia. La condanna della bestemmia nella Sagra Scrittura è continua e categorica e viene considerato un peccato grave perché offende Dio e le sue creature. Il giuramento in vocazione di Dio a testimoniare la verità non si dia se non è veritiero. Il giuramento rivolto a danno degli altri o della salvezza eterna non si deve osservare. Ogni forma, sempre e dovunque, in ogni forma di preghiera siamo invitati a lodare il Signore mediante i salmi con i quali lo stesso Gesù prega. Esprimiamo lode e ringraziamenti, riceviamo conforto nel dolore, meditiamo sui problemi dell'esistenza umana. Dio ci ha resi suoi collaboratori per la costruzione del regno, regno di pace, di giustizia, di amore, di santità. Nessuno può chiudersi nel privato, dare la delega in bianco ad altri, praticare l'assenteismo, ma piuttosto ognuno partecipi ai problemi del paese, la scuola, i servizi sanitari, l'assistenza, l'amministrazione, la cultura locale. Ogni ingiustizia rivolta ad un uomo merita di essere punita. Quanto più la bestemmia, insulto, fatta Dio stesso. Essa è il contrario dell'adorazione e della lode dell'uomo che si deve a Dio. La lingua che si usa per imprecare, per sparlare, per denigrare è lingua usata contro Dio. Padre Pio su questo problema dell'uso della parola era intransicente. Anche Padre Pio non è da meno contro coloro che offendono il Signore e le cose sagre con la bestemmia e usa ugualmente le maniere forti. soleva dire che la bestemmia è la via più sicura per andare all'inferno. La bestemmia è il diavolo sulla tua bocca. Ci interroghiamo perché si è fatto atteggiamento da parte di tante persone? Perché erano degli innamorati di Dio? Francesco non si stanca mai di cantare, di fare gara con gli uccelli nel lodare il Signore, gli uccelli con il loro cinguettio ed egli con il canto dei salmi. Alla luce di quanto stiamo dicendo, rivedo Padre Pio passeggiare per il viale dei cipressi del convento e mentre recita il breviario e gli uccelli insieme a lui lodare il Signore. Rivedo il Padre citare le lodi della liturgia delle ore. Penso alla gioia che trasferiva da sua volta quando sentiva i canti che animavano le liturgie celebrate nella chiesetta. Rivedo il Padre Pio